Una discarica pusiva a San Cristoforo, uno dei quartieri a sud di Catania, potrebbe non suscitare stupore se i cumuli di rifiuti non si trovassero all'interno di una scuola materna comunale, abbandonata da anni. Il plesso della levio tempesta di via Moncada è sommerso dai rifiuti. Ogni tanto viene ripulito dall'amministrazione comunale e poi tutto torna come prima. Lontano da occhi indiscreti al calar della sera, incivili conferiscono materiale di risulta, scarti di edilizia, elettrodomestici, qualcuno ci avverte anche della presenza di amianto. Scene che si ripetono ogni giorno sotto gli occhi degli abitanti costretti a convivere con topi e zanzare e spesso minacciati se provano a mostrare il loro disappunto. Qualche anno fa la strada parallela via Moncada e via Toledo era stata chiusa per evitare lo stesso scempio. Banchili la situazione si ripropone ancora oggi con la medesima consuetudine. Di velte alla recensione si gettono i rifiuti. Siamo in un decreto pazzesco, spazzatura, amianto, abbiamo fatto più richieste tante volte e rimane sempre qui. Il vecchio sindaco sempre con gli assessori venivano, controllavano e se ne andavano e ci promettono che c'era il piano regolatore, ora si sistemano, si sistemano e rimane sempre così. Vogliamo per contesia, se si può togliere un pochettino di questa spazzatura, di questo poccile, perché siamo anche noi, siamo cittadini, non di serie A, non di serie B e non di serie C. Siamo cittadini catarense. Viviamo proprio nella schifezza più assoluta, proprio nella schifezza più assoluta. Non c'è rispetto per gli altri. Tutto quello che devono buttare è tutto qua. Le zanzare, le mosche, i bambini, è un'indecenza proprio, un'indecenza. Tutta l'area versa in pessime condizioni, la piazzetta di Viamoncada è stata vandalizzata ed il campetto che ad opera di privati era stato realizzato per permettere ai ragazzini di giocare a calcio è impraticabile. Prima questo campetto era frequentato dai ragazzi? Sì, sono stati dei ragazzi stessi a fare tutto questo perché facevano dei piccoli campionati qua di calcio. e allora loro stessi hanno sovvenzionato questa pulizia del campo, hanno messo dei fari, dei recinti in tutto, però poi l'hanno abbandonato.